daily cogito svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi ogni mattina dal lunedì al venerdì con rick du ferre buongiorno ghiandole pineali da strapazzo in cerca di idee e riflessioni nutrienti siete su daily cogito quindi siete nel posto giusto per risvegliarvi io sono rick du e quest'oggi ci divertiamo perché parliamo di commenti sul web parliamo di un genere di commenti molto particolari quei commenti che vengono lanciati nel lettere da persone che si fingono fin tanto che fa comodo democratiche pluraliste aperte e che appena incontrano un'analisi una battuta un post scherzoso serio che contraddica anche solo di striscio il loro sistema di valori e le convinzioni diventano i peggiori bigotti mentali politici intellettuali e filosofici e scrivono commenti del tipo tacci tu non puoi parlare era meglio che stessi zitto di cosa sto parlando beh ieri mattina sulla mia pagina facebook mi sono un po divertito a stuzzicare fra il serio e il faceto la sensibilità di tutti quelli che sono andati a votare alle primarie del pd in vari modi sappiamo il resoconto sappiamo che ha vinto nicola zingaretti io le mie considerazioni su queste su questa cosa le farò ma non le faccio oggi le farò domani non volevo farle ma insomma il trigger che si è scatenato con i miei post mi impone di farci un ragionamento quindi domani ne parliamo oggi invece parliamo della reazione a quei post la mia pagina facebook la trovate linkata in descrizione se volete andare a cercarla è rick dufer pagina pubblica insomma al netto dei contenuti al netto di quello che ho scritto che ovviamente può essere giusto sbagliato condivisibile o meno e ci mancherebbe io mica ciò la verità assoluta ma ci sono tre tipologie di commenti che ritornano molto molto spesso in maniera abbastanza anche divertente il primo commento è mi piace mi piace quando parli di filosofia ma non mi piace quando parli di economia o politica non dovresti farlo e questo è un commento il secondo è era meglio se stavi zitto in questi casi è meglio tacere quando non sia niente di intelligente da dire è meglio tacere commento che secondo me è un'arma a doppio taglio perché in effetti non dice granché di intelligente infine ci sono quelli che mi dicono mi hai dato fastidio con questo post non avresti dovuto scriverlo o peggio fanno anche la vittima mi hai fatto male con questo post hai colpito le mie convinzioni e le mie convinzioni non devono essere toccate eccetera eccetera e dietro a questi commenti c'è il tentativo di chiudere la bocca perché di questo si tratta perché diciamocelo viviamo nel mondo della comunicazione aperta della comunicazione globale in cui tutti quanti devono sembrare sempre sempre propensi a dialogare a scambiare opinioni ma nella realtà dei fatti rimaniamo sempre i soliti bigotti e ogni nostro tentativo è rivolto alla necessità di non far scalfire le nostre opinioni non importa quanto poco competenti quanto intelligenti no non vogliamo farle toccare ci fa schifo il pluralismo ci fa schifo il fatto che esistano persone che non la pensano come noi e io io ci sono dei motivi per cui considero spinozza il mio maestro spirituale spinozza ha scritto una cosa di una semplicità mostruosa è così difficile da conquistare ognuno è libero di pensare quello che desidera ed è libero di dire quello che pensa però siamo pluralisti fin tanto che le opinioni ci danno ragione e ogni volta in cui le opinioni che ascoltiamo contraddicono anche in maniera in misura minima quello che è il nostro pensiero andiamo in bestia perché questo va a sviscerare la vacuità della nostra sicurezza in noi stessi vedete nessuno di noi alla verità assoluta su alcunché su nulla non siamo in contatto con le verità universali soprattutto quando mettiamo le cose in un discorso quando usiamo le parole il linguaggio che è di per sé strutturalmente approssimativo strutturalmente incapace a dire una verità assoluta io meno che meno io sono assolutamente convinto che in ogni momento della mia vita mi becco degli abbagli incredibili io non ho la verità assoluta ma noi dovremmo tacere quando non abbiamo la verità assoluta pensate che è difficile avere una verità assoluta persino valutando le parole di esperti su questioni estremamente scientifiche come per esempio la meccanica quantistica la fisica la chimica la medicina l'immunologia perché ogni problema ha molteplici prospettive da cui affrontarlo e nessuno neanche l'esperto degli esperti riesce a produrre un discorso che metta insieme in maniera onesta convincente tutte quante le prospettive figuriamoci figuriamoci su temi come la politica temi che sono costruiti su una miriade di prospettive ed è inevitabile che ognuno di noi abbia una certa prospettiva più o meno competente su quel problema aggiungiamo a tutto questo che i commentatori suddetti quelli che mi piaci quando parli mi hai dato fastidio era meglio se stavi zitto non sono manco esperti di tematiche di forse di nessuna tematica ma in particolar modo di economia di politica io perlomeno in economia ho alcuni alcuni titoli su cui basare è un'esperienza lavorativa abbastanza importante ma comunque non direi mai di poter dire qualcosa di assolutamente vero ecco capite il minestrone che c'è capite quanto in realtà ci fa schifo il fatto che ci sia qualcuno che non la pensa come noi al era meglio che stessi zitto io risponderò sempre in due modi prima di tutto con una risata perché mi fa ridere che qualcuno ha maggior ragione non esperto ma un utente normale di cui non so nulla e che per me è uno sconosciuto risponderò con una risata perché non c'è che da ridere di fronte all'ammonimento di tacere da parte di qualcuno che non conosci in secondo luogo risponderò sempre con una caterva di parole di opinioni e quello è un dovere civile è un dovere civile esprimere la propria opinione ma scusatemi io ho scritto un libro sulla necessità di lasciare libera circolazione persino alle idiozie il mio elogio dell'idiozia se non l'avete letto trovate il link in descrizione figuriamoci le mie opinioni che non le considero minimamente idiozie magari sono idiozie agli occhi di qualcun altro e ci mancherebbe liberissimo ma io credo che le mie opinioni siano almeno sufficientemente argomentate da poter essere diffuse senza dovermene vergognare a differenza di quasi tutte quelle che si vedono oggigiorno sparse nel web figuriamoci quanto io dovrei stare zitto figuriamoci quanto un utente sulla base di qualsiasi argomento si trovi nella necessità abbia il diritto di dirmi di stare zitto cioè nel senso ma ma di cosa stiamo parlando è che ripeto noi vogliamo noi desideriamo qualunque sia la nostra parte politica la nostra ideologia noi vogliamo restare nella nostra bolla di sicurezza e quello che io ho fatto ieri con le primarie del pd con zingaretti in passato l'ho fatto col movimento 5 stelle con la lega l'ho fatto con tutti diciamo così ho un certo talento a inimicarmi un po tutte le sensibilità politiche mi riesce bene anche perché poi politicamente io non è che abbia le idee più popolari del mondo quindi mi riesce bene è un talento sopraffino che da sempre coltivo perché mi dà tanta soddisfazione e divertimento e io l'ho fatto con tutti e il risultato è devastante che di fronte a centinaia e centinaia di reazioni sono tutti uguali l'elettorato del pd non è diverso dall'elettorato del movimento 5 stelle dall'elettorato della lega l'unica differenza forse è che il pd è talmente frammentario nelle sensibilità al suo interno che magari riesce ad avere un po di pluralismo nelle prospettive interne mentre la lega per esempio è un partito fondato su un bias cioè la lega fa tutto quello che il suo elettorato vuole essendo che il suo elettorato è un corpus piuttosto unitario di sensibilità e visioni e o anche semplificazioni però però in fin dei conti nell'atteggiamento di non tollerare l'opinione diversa dalla mia unita alla totale impossibilità di da un lato argomentare le proprie posizioni perché spesso c'è incompetenza e totale mancanza di argomenti infatti quasi tutti questi commenti sono ad hominem cioè di solito è l'attacco personale a chi esprime l'opinione diversa dalla mia e dall'altro lato la totale indisponibilità a dialogare a restare lì cinque minuti a parlarne a sviscerare gli argomenti e ovviamente vabbè ma quello neanche citarlo la totale indisposizione ad ammettere di aver detto una cazzata cosa che io in passato ho fatto e non ho nessun problema a fare quando capita ma non è questo il caso ecco tutto questo mi dimostra che purtroppo in italia c'è un motivo per cui siamo così tanto mentalmente sudditi perché in italia siamo così sempre propensi a dare fiducia al messia di turno si chiami prima berlusconi poi di maio poi renzi adesso salvini e chi verrà dopo chi lo sa chi lo sa perché perché il suddito prima di tutto è colui che non tollera che ci sia qualcuno che non la pensa come lui e quindi preferisce potersi rifare a qualche autorità che poi non si sa bene a quale autorità che chiuda la bocca a chi non la pensa come lui il suddito è questo e il suddito è pericoloso e quelli sono commenti di sudditi allora il mio invito è quello di evitare questo tipo di comportamenti perché perché quando facciamo questo quando non tolleriamo il fatto che qualcuno la pensa diversamente da come la pensiamo noi siamo più sudditi e essere sudditi è una cosa molto brutta perché significa che il nostro cervello l'abbiamo fritto dentro l'olio bollente dell'autoritarismo infine un'ultima un'ultima cosa c'è un commento che torna molto spesso sempre quando dico cose controverse io dico quasi sempre cose controverse con cui molti sono in disaccordo e quel commento è ma parla di seneca parla di nice non parlare di politica o di economia mi piace quando parli di filosofia dovresti limitarti alla filosofia e non parlare di politica economia anche qua la prima reazione è una risata eclatante la seconda reazione è ma voi davvero pensate che parlare di seneca di nice di filosofia sia qualcosa di diverso di distaccato di naturalmente separato dal parlare di politica di economia di pill di deficit di debito pubblico e di cose di attualità davvero avete un'opinione così così miope così ignorante della filosofia ma leggetevi seneca seneca era il primo filosofo che parlava di politica e di economia e fidatevi tantissimi nel suo tempo non erano d'accordo con le sue visioni ma proprio zero assoluto e tanti anche allora gli dicevano vabbè ma ascolta fa poesia scrivi tragedie non scrivere trattati politici non metterti in politica seneca che la filosofia è per te ma il resto non è per te l'ultima reazione sarebbe quella di far capire a queste persone che quando io parlo di politica economia insomma parlo con un po di cognizione di causa perché perché ci ho lavorato nel campo dell'economia quindi io un po di esperienza al di sopra della media ce l'avrei e questo ripeto non significa che ho la verità assoluta che io ho più ragione degli altri significa che l'esercizio del dubbio che io opero su di me ogni giorno forse a volte bisognerebbe operarlo su di sé un po più spesso e quando leggete un'opinione di economia di filosofia di politica da parte di qualcuno che ha una certa visibilità che tratta gli argomenti in un certo modo e di cui magari anche apprezzate i contenuti come spesso esprimete nei confronti del sottoscritto forse prima di scrivere era meglio che stessi zitto fate un bel respiro fermatevi sedetevi rileggete chiudete il computer fatevi una passeggiata prendete una bella boccata d'aria tornate dopo due giorni dopo aver rinfrescato la mente e rileggete perché è altamente probabile che leggendo quella cosa con cui non siete d'accordo vi sia salita la bile al cervello non il sangue la bile al cervello e in questo modo voi non stiate leggendo quello che effettivamente c'è scritto ma state leggendo quello che la bile vi ha corroso nel cervello e questo è ovviamente un problema detto questo tutto ciò è la mia opinione è la mia visione dei fatti quindi voi potete dirmi con un commento cosa ne pensate spero comunque di avervi fatto riflettere e magari di avervi fatto di aver aperto una prospettiva diversa su questo tipo di problematiche io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona mattinata e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa